Vediamo un po'. Che ti passi a tutti gli incontri, tutti gli amati, anche i tuoi bambini. Perché non importa quattro, 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 quattro... ...i passi avremo con te. ...i passi avremo con te. Ok, questo è il gioco, quello che si gioca tutti insieme, dove si fanno le scelte di gruppo, mi pare di capire, giusto? Non è single player, giusto? Proviamo a mettere sottotitoli, magari, per chi magari non l'ha... Più che altro, allora, non mi dice moltissimo. Cioè, mi potrebbe interessare per la questione, appunto, dell'esperienza. Se è quello dell'esperienza condivisa, no? Perché... Alla fine, a livello puramente visivo... Allora, all'inizio mi faceva tanto Shutter Memories. I giochi, il parco giochi, il ghiaccio, che fa tanto appunto Shutter Memories, che l'abbiamo giocato assieme. Alla fine non... Potrebbe essere... Potrebbe non essere Silent Hill. Cioè, di Silent Hill... Non ci vedo tantissimo, nel senso... Non è per la nebbia, potrebbe essere un qualunque horror che si chiama in qualunque altro modo. Potrebbe chiamarsi... Non lo so... Arrosticini... Di maiale... Reckoning. Poi, magari, appunto, se ha... Delle meccaniche interessanti, è una storia intrippante. Perché questo non possiamo saperlo. Magari... Cioè, comunque Silent Hill fa tanto la trama... Più che il gameplay... Fa... Sì, c'era un bambino, quindi... E allora... Cioè, potrebbe essere interessante, più che altro per le meccaniche. Però, ripeto... Eh, potrebbe essere un bel gioco. E ci hanno appiccicato... Silent Hill. Cioè, uno spin-off, alla fine. Non... Eh, ok. Potrebbe essere un nuovo gioco della Dark Pictures Anthology. Esatto. Anche graficamente non mi è sembrato. Riguardiamolo. 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 Non è brutto, praticamente, per carità. Però... Riguardiamolo. 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 Eh sì, sono tutti i personaggi che fanno la parola. Riguardiamolo. 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 Dicом… La完了azione non è problema della macchina. Bassi. O. Riguardiamolo. 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 Ma potrebbe essere carina la storia. Come atmosfera non mi piace, come atmosfera non mi piace, non lo so. In generale come trailer è proprio il trailer mainstream con le scritte, le parole. Sofferenza, trauma, redenzione. Ripeto, potrebbe essere carino come gameplay, potrebbe avere una storia carina, magari i personaggi sono fighi. Però come atmosfera non mi dice molto. Atmosfera non mi dice molto. Mentre per dire Silent Hill F sembra fighissimo da quel punto di vista. Cioè quello mi aveva preso tanto. Però alla fine appunto questo progetto l'avevano già fatto intravedere. E appunto l'avevano detto che il mostro alla fine, questo qua, mi sa che questo si è già visto. Che quelle sono mani mi pare, si era già visto questo qua. Infatti ho detto che cazzo sono stalker di Dead by Daylight. E infatti mi pare che sono loro comunque che lo stanno facendo. Quindi capito? Cioè chiaramente ha una roba, ha un'atmosfera diversa. Vuole essere una cosa più collettiva. Quindi ci sta un po' più mainstream, un po' più cafone. Ci può stare, ci può stare. Appunto abbiamo già parlato. Quello che vuole fare Konami è mungere a sangue. Quindi faranno delle tipologie di esperienze tutte diverse. Quindi avrai questo gioco cafone. Avrai il gioco cafone. Poi avrai appunto Silent Hill F che invece è una cosa proprio un nuovo take. Completamente un'altra atmosfera, un altro mood. Il remake di quello vecchio. Vogliono fare tante cose diverse. Do coio coio praticamente. Ma va bene così. Se lo fai con criterio, alla fine hai un IP, la vuoi sfruttare? Fallo. Va bene. Finché lo fai bene. Finché mungi, ma mungi con criterio. E dai esperienze diversificate. Non è che devono piacerti tutti i Silent Hill. Cioè potenzialmente questa tipologia di gioco farà cacare ai fan vecchi a scuola. Poi però magari uscirà Silent Hill F che sarà un Silent Hill meraviglioso. Quindi l'importante è che alla fine se fai tante cose, io preferisco se hai i soldi, se hai la possibilità, se hai l'IP, fai tante cose per fare contenti tutti. Fai la roba mainstream, questo è per gli streamer, questo è per chi lo gioca con la community. Quindi fai la roba per la community. Fai la cosa tra virgolette old school, quindi magari un pochino più psicologico. Abbiamo fatto, c'è un video, lo trovate su YouTube, dove abbiamo parlato di Silent Hill F, abbiamo visto anche un video di analisi su quello che potrebbe essere la simbologia dietro Silent Hill F, che sembra veramente una figata. È legata alla guerra, alle bombe nucleari, sembra veramente una gran figata. Anche con tematiche molto pesanti. Poi è il remake, che fa chiaramente leva sull'effetto nostalgia. Diciamo, se fai tutto e lo fai comunque bene con situazioni, quindi con contesti diversi, alla fine fai contenti tutti. Ripeto, non sta scritto da nessuna parte che tutti i Silent Hill debbano piacere ai fan di Silent Hill. Per dire, ne avevamo parlato, me l'aveva detto io, questo non lo sapevo, l'ha detto Sabaku mentre eravamo in live dello State of Play di Sony, che hanno deciso di fare dei Assassin's Creed, tornare a fare Assassin's Creed classici e Assassin's Creed GDR. Va benissimo. Così fai contenti tutti, fai contenti quelli che hanno preferito la deriva a gioco di ruolo, con i numerini del cazzo, e chi invece vuole l'Assassin's Creed stealth. Se fai tutto, farai contenti tutti, ok? Quindi questo io lo rispetto, come progetto lo voglio rispettare. Per gusto personale, mi sembra un gioco ispirato a Silent Hill, non mi sembra Silent Hill, hanno voluto mettere un po' tutto. Però magari è bello, cioè magari è una bella storia, effettivamente riguardandola anche una bella graficuccia. Non lo so, la prima volta che l'ho visto non mi convinceva. Forse questo qui, non lo so, lei, c'era sta camicetta di cartoncino che non mi piaceva, però poi effettivamente funziona. Bella lei qua, molto bella tra l'altro, proprio molto belle le labbra. Potrebbe funzionare, da giocare insieme sarà sicuramente divertente. Poi appunto, magari non sarà il migliore Silent Hill, sti cazzi. Ok, vabbè. Grazie. 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 Grazie.